Domenico Mignolo A Vivo Valencia l'occupazione della strada antistante e gli uffici dell'ente. La protesta sempre più dura dopo 5 mesi senza stipendio. Corso Marso presenta azione nazionale. Il neonato movimento politico che recupera l'acronimo della vecchia N mette radici in Calabria. La conferenza stampa del consigliere regionale è portavoce di una formazione a cui ederisce pure scopelliti. Bambin Gesù rinnovata la convenzione. Non sarà come in passato, ma i piccoli pazienti calabresi affetti da patologie gravi e rare potrebbero continuare a curarsi a Catanzaro. Dopo mesi di attesa, ansia e proteste, ecco una buona notizia. Il crotone è sempre più capolista. Continua la straordinaria cavalcata dei rosso-blu pitacorici verso la Serie A. Una nuova impresa dei ragazzi di Juric che sbancano anche il glorioso Sinigaglia di Como. Buon pomeriggio e ben ritrovati. La cronaca in apertura del nostro telegiornale si chiama Domenico Mignolo con diversi precedenti alle spalle. Sarebbe lui l'assassino di Antonio Taranto, il giovane cosentino assassinato nello scorso mese di marzo a Cosenza. Emergono particolari sconcertante dalle indagini condotte dai carabinieri. Fu ucciso per un tragico errore, per il gesto balordo di un dranghetista pluripregiudicato che è dirato per non aver ricevuto lo stipendio dal clan di appartenenza Irango Zingari. In un periodo in cui era detenuto, si affacciò dal balcone di casa e sparò due colpi di revolver calibro 38 contro colui il quale riteneva essere il responsabile dello sgarro. Domenico Mignolo, 28 anni di Cosenza però, il 29 marzo scorso, domenica delle Valme, uccise chi non c'entrava nulla, Antonio Taranto, 26 anni. Accadde in via Popili a Cosenza. Le indagini, coordinate dalla procura Abruzzi e condotte dai carabinieri del reparto operativo, sono arrivate ad una svolta con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e messa a carico di Domenico Mignolo, un tipo ritenuto violento e irascibile che i familiari quel giorno, malgrado gli sforzi, non riuscirono a fermare. Un caso complicato, il delitto Taranto, che dovette fare subito i conti con elementi che portarono gli inquirenti fuori strada. Dalla pista del litigio in discoteca avuto dal giovane ucciso, commerciante chiamava i cani e i motori, all'alterazione della scena del crimine, fino al muro di gomma tra i testimoni di quanto avvenne in via Popilia. E questa mattina a Cosenza si è tenuta la conferenza stampa degli inquirenti. Ecco cosa ha dichiarato a margine il procuratore aggiunto Marisa Manzini. La nostra attività è l'intercettazione, sommarie informazioni, dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, attività compiuta dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti e consulenza balistica. Queste sono le fonti di prova che io le ho sintetizzato. In realtà poi che cosa è successo? La mattina del 29 marzo, nella notte del 29 marzo, a seguito di questo omicidio, immediatamente si sono attivate le investigazioni e immediatamente abbiamo in realtà sin da subito operato seguendo questa via perché delle attività di intercettazione ci conducevano sostanzialmente verso l'indagato Mignolo Domenico. Le attività poi successive ci hanno consentito di capire che quella che era l'intuizione iniziale era quella corretta attraverso poi tutta l'acquisizione di ulteriori fonti di prove. E' ancora cronaca, un uomo è morto ed un'altra persona è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina in provincia di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni una Fiat Punto si è scontrata frontalmente con un camion ma nel violento impatto è rimasto coinvolto anche un SUV BMW. L'incidente è avvenuto nel territorio di Castrovillari sulla strada statale 534 che collega lo svincolo autostradale di Firmo con la statale 106. La zona è interessata ad alcuni lavori di ammodernamento. Ed un altro grave fatto di cronaca nera avviene dalla Locride piantonato in ospedale il giovane di Gioia Tauro che ieri nella Locride ha coltellato l'ex fidanzata. Dopo il tentato femminicidio il presunto aggressore ha tentato il suicidio bevendo candeggina. Vediamo. Entra di giorno a metà mattinata nella casa dell'ex fidanzata. La loro storia è finita da poco più di un mese ma lui Giuseppe Gambettola 26 anni di Gioia Tauro non ci sta. Non riesce ad accettare che la sua strada si sia divisa da quella di Angela Battaglia 24 anni di bianco. Proprio nel paesino della Locride si consuma la tragedia. Gambettola fa irruzione in casa della ragazza e la colpisce con un coltello. Prima alla gola poi al torace e all'addome. L'aggressore scappa lasciando la donna in fin di vita sul pavimento del salotto. Torna a casa sua a Gioia Tauro e lì tenta di suicidarsi bevendo varichina ma non ci riesce. Sia Giuseppe che Angela adesso sono in ospedale. La ragazza lotta tra la vita e la morte. Ha ricevuto varie trasfusioni per tamponare le morragie ma le sue condizioni restano gravi. Su Facebook la gente di Gioia Tauro e Bianco organizza assieme veglie di preghiera per Angela perché sopravviva alla follia di un amore malato e possessivo. E nel frattempo chiede giustizia per la ragazza, aggredita in casa propria da colui che fino a un mese prima era il suo fidanzato. Ed ora gli altri fatti di cronaca della giornata. È morto dopo 24 giorni di coma Francesco Brogna, 73enne di Zaccanopoli, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale coinvolto in un sinistro lungo la strada provinciale 17 nei pressi del bivio per Zungri, capo Vaticano. Il suo cuore, duramente provato da un quadro clinico che non è mai migliorato, ha smesso di battere all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove si trovava ricoverato a causa dei gravissimi traumi riportati per l'impatto tra la sua motoape e una Smart. Alberto Cisterna, numero 2 della Direzione Nazionale Antimafia, quando era guidata da Pietro Grasso, non può essere demanzionato, nonostante la conferma da parte della Cassazione, della sanzione della censura infrittegli dal CSM per non aver informato il suo capo, né alcun altro del suo ufficio, di intrattenere continuativi contatti con Luciano Logiudice, figlio e fratello di esponenti di spicco dell'omonima cosca calabrese, e a sua volta coinvolto in indagini sull'andrangheta. Lo sottolinea la Suprema Corte nel verdetto delle sezioni uniti civili sul ricorso intentato dallo stesso Cisterna. Quattro assoluzioni e una valanga di condanne che hanno colpito sia vecchie che giovani leve del clan Molè, sia volti noti della TV come l'attore Stefano San Marco. Così è deciso il giudice Cinzia Barillà per i 35 imputati del processo mediterraneo, scaturito dall'inchiesta coordinata dai PM Roberto Di Palma e Matteo Centini, che ha fornito la fotografia più attuale della cosca Molè. La più alta condanna va a Carmelo Stanganelli, condannato a 17 anni e 8 mesi di reclusione, seguito a ruota da Girolamo Magnoli, punito con 17 anni di carcere, 4 mesi in più di quanto chiesto dai PM Di Palma e Centini. La procura di Catanzaro ha chiuso le indagini sul capo di gabinetto della questura di Catanzaro Nicola Cosimo Miriello, accusato di estorsione aggravata dalle modalità mafiose. Secondo le ipotesi accusatori, Miriello avrebbe spesso il nome di un noto imprenditore di Lamezza Terme, finito in manette nella Maxi Operazione Andromeda contro la famiglia Giannazzo e il clan satellite Cannizzaro da Ponte, per ottenere uno sconto privilegiato sull'acquisto di una serie di immobili. Finisce in carcere, in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare, un 32enne di Reggio Calabria, accusato di detenzione e divulgazione di materiale pornografico realizzato mediante l'utilizzo di minori vittime di violenza sessuale. Materiale che avrebbe poi inserito in rete, consentendone la condivisione da parte di altri utenti del web. Una soluzione, 18 condanne per un totale di oltre due secoli di carcere. Così è deciso il gruppo Barbara Bennato al termine del primo grado del processo con rito abbreviato Puerto Liberado, scaturito dall'inchiesta che ha svelato il lavoro delle squadre al porto di Gioia Tauro, quei gruppi di dipendenti infedeli che nello scalo calabrese si occupavano di svuotare i container che arrivavano carichi di cocaina. La pena più alta va ai fratelli Alfredo e Giuseppe Brandimarte, considerati gli inventori delle squadre, per questo condannati a vent'anni di carcere. Torniamo ora ad occuparci del caso Calabria Verde, l'ente in house della Regione sul quale anche la magistratura ha acceso i riflettori. Il numero 1 Paolo Furgioele, dopo le acquisizioni di atti operati dalla Guardia di Finanza, è stato sentito come persona informata sui fatti dal procuratore aggiunto di Catanzaro Giovanni Bombardieri. Dall'acquisizione di atti alle prime audizioni di persone informate sui presunti appalti irregolari in Calabria Verde, ente strumentale regionale nato per affrontare tutti gli interventi sul territorio nel campo della forestazione e della difesa del suolo, compito assolto prima dall'azienda forestale della Regione Calabria, l'Afor, e poi dalla comunità montane soppresse e poste in liquidazione. Il primo a varcare la porta del procuratore vicario Giovanni Bombardieri è stato il direttore generale Paolo Furgioele, ma l'elenco delle persone chiamate a sommare informazioni parrebbe essere molto lungo. Furgioele ha ricostruito l'iter degli appalti nell'occhio del ciclone della procura, spiegando l'escursus relativa alla gara poi revocata per l'acquisto con fondi comunitari di automezzi speciali, destinati a contrastare il dissestro idrogeologico e di attrezzature per l'incendio boschivo. Una procedura da 32 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha comunque acquisito tutta la documentazione relativa a Calabria Verde e gli accertamenti potrebbero andare ben oltre la regolarità sugli appalti. Al momento la procura sta leggendo e rileggendo gli atti acquisiti in Consiglio regionale, ma è ancora presto per parlare di indagati, di possibili ipotesi di reato. Ci sono carte prelevate e un istruttore in corso. Intanto oggi il TAR si occuperà di uno dei tanti tasselli sotto la lente di ingrandimento della procura penale, quello relativo all'aggiudicazione della gara d'appalto per il servizio aereo regionale mediante impiego di elicotteri per attività di prevenzione ed estinzione di incendi boschivi. Ricorrente è la società Eli Mediterranea che ha impugnato i provvedimenti di Calabria Verde. In ballo una torta da 8 milioni di euro. Ed ora i temi del lavoro. I dipendenti della provincia di Crotone si incatenano. Quelli della provincia di Vibo occupano la strada antistante e gli uffici dell'ente. Da messi senza stipendio si dichiarano pronti a protestare ad oltranza. Comunque sì, a loro si annuncia un Natale davvero triste. I dipendenti della provincia di Crotone si incatenano all'interno della sala consigliare. Quelli della provincia di Vibo Valencia occupano la strada antistante e gli uffici dell'ente. Senza stipendi, da mesi. Senza presente e soprattutto senza futuro. Nella terra di Pitagora i conti non tornano. Si attendono 10 milioni di euro per rimettere in carreggiata l'ente. Quindi il saldo delle spettanze pregresse e la regolarità delle retribuzioni. A Vibo ci si accontenterebbe di quel milione e mezzo di euro parcheggiato nella tesoreria. Ma che gli istituti di credito intendono impiegare per saldare i mutui in scadenza. Infischiandosene dell'indirizzo fornito dai vertici dell'ente e dal consiglio provinciale. Che vorrebbe invece arrivare al pagamento di almeno 3 su 5 mensilità arretrate. Si annunciano proteste ad oltranza per scardinare tanto a Crotone quanto a Vibo Valencia l'assordante e imbarazzante silenzio da parte della politica. La stessa che ha creato organici elefantiaci. Alimentato sogni e speranze e poi delusi. Che ha sperperato fiumi di denaro pubblico portando gli enti. Già prima del riordino targato del rio al collasso. E noi oggi abbiamo intervistato proprio i lavoratori della provincia di Vibo Valencia. Ecco le loro voci. Speriamo che possiamo avere delle risposte in tempi brevi. Perché noi ci farebbe molto piacere martedì avere risolto le cose. Ritornare nei nostri uffici e svolgere per quello che c'è possibile il nostro lavoro. Mi sembra di capire che c'è poca solidarietà da parte della gente. Solidarietà veramente da un anno e mezzo ne abbiamo avuta poco. Più volte abbiamo sentito frasi del tipo sarebbe ora a chiudessere questa provincia. Però adesso i servizi non ci sono e forse qualcuno si rende conto che la provincia del tutto inutile probabilmente non era. Sei mesi di stipendi arretrati non sono sicuramente cosa da poco. Noi speriamo a breve che ci sia una risposta del giudice. Perché in pratica in questo momento siamo nelle mani del giudice del lavoro e del tribunale. Quindi è il giudice che dovrebbe darvi una risposta circa lo sblocco dei vostri stipendi. Speriamo tra venerdì e lunedì di averla perché giorno 15 già i soldi che ci sono stati accantonati in banca andrebbero ad essere a copertura dei mutui e non sicuramente a copertura degli stipendi. Continueremo a lottare fino alla fine con tutte le forze. Aspettiamo due o tre risposte sperando che qualcuna si concretizzi nel più breve possibile. Certamente prima del 15 perché poi una risposta anche positiva dopo del 15 non servirebbe a niente. Importanti novità per gli LSU arrivano da Palazzo Madama. Ecco i 50 milioni attesi per la contrattualizzazione di LSU e le più calabresi. Adesso le decisioni della Commissione passano al vaglio dell'Aula del Senato. Da Roma a Michela Mancini. Dopo la bocciatura degli emendamenti in Commissione Bilancio a Montecitorio la situazione per i precari calabresi non sembrava mettersi bene. scompariva di fatto la possibilità di ottenere un finanziamento poco meno di 90 milioni di euro che arrivasse interamente dalle casse dello Stato. Gli animi si erano agitati e insieme agli animi si erano agitati anche i sindacati. Ma una breccia si è aperta. Se prima era una speranza, ora è una certezza. La Commissione Bilancio del Senato ha infatti approvato l'emendamento al DL Giubileo presentato lo scorso 3 dicembre dall'esponente del PD Silvio Lai che prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per la contrattualizzazione degli ex LSU e LPU calabresi. In particolare i 50 milioni, si legge nella relazione illustrativa, serviranno a completare con il contributo dello Stato entro il 31 dicembre 2016 le procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili della Calabria. Approvato in Commissione, il DL Giubileo dovrà passare all'esame dell'Aula. Se verrà approvato, al contributo statale di 50 milioni di euro, dovranno aggiungersene altri 38 della Regione Calabria che serviranno ad arrivare alla contrattualizzazione degli ex LSU e LPU a 26 ore settimanali anche per il 2016. E ancora lavoro, nuova protesta stamani al Parco regionale delle Serre. Oltre 40 lavoratori impiegati grazie ai tirocini formativi che stamani hanno richiamato l'attenzione di politica e istituzioni dal tetto dell'ente. Cristina Iannuzzi. Esasperati per avere perso il posto di lavoro sono saliti sul tetto del Parco regionale delle Serre dove per un anno hanno svolto le loro mansioni. Si tratta di 49 tirocinanti inseriti nel progetto Natura e Turismo che stamattina hanno inscenato la plateale protesta. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco della compagnia di Serra San Bruno che hanno montato il terro d'asalto per evitare incidenti. Dalla cima dell'edificio l'urlo degli ex lavoratori. Chiedono il rinnovo del loro periodo formativo ma nonostante i vari appelli rivolti alla politica e gli impegni pubblicamente manifestati da alcuni consiglieri regionali del Vibonese niente sembra essersi mosso. Così questa mattina dopo aver presidiato per un mese l'ente regionale di Serra San Bruno una folta delegazione dei tirocinanti accompagnata da esponenti dello Slai Cobas è salita sul tetto dell'edificio dopo aver bloccato dall'interno l'ingresso. Un modo per richiamare l'attenzione delle autorità preposte i manifestanti chiedono in particolare un incontro con il prefetto di Vibo Valencia Giovanni Bruno è lui l'uomo che potrebbe risolvere un'avvertenza che vede coinvolti 49 padri e madri di famiglia che nel parco delle Serre avevano intravisto una speranza per il loro futuro. Passiamo alla politica oggi conferenza stampa di Fausto Orso Marso il consigliere regionale di centro-destra ha presentato in Calabria il Movimento Azione Nazionale qui tra gli altri ha partecipato anche l'ex governatore Giuseppe Scopelliti Azione Nazionale il Movimento Politico che rilancia l'acronimo della vecchia alleanza nazionale mette radici in Calabria conferenza stampa a ferroleto antico per il portavoce della neonata formazione Fausto Orso Marso che ha spiegato le ragioni del percorso intrapreso e a cui aderiscono tra gli altri Gianni Alemano e Giuseppe Scopelliti C'è un vuoto politico, c'è uno spazio politico, c'è una storia che non si cancella e c'è soprattutto un futuro da costruire L'ambizione della nuova N è quella di ridare slancio al centro-destra e di offrire un'alternativa al centro-sinistra Nel centro-destra oggi manca la destra non soltanto in termini di consenso ma soprattutto in termini di contenuti manca poi soprattutto anche la Calabria perché in queste ore dove bisogna già da subito costruire un'alternativa a un centro-sinistra che credo insomma dire, definirlo incapace è il termine diciamo meno offensivo per valutarli Chiara, secondo Fausto Orso Marso, la rotta da seguire Noi abbiamo invece l'idea che al centro-destra manca una destra autorevole ma non è soltanto la crisi di chi è di destra e ha come me la storia nella storia diciamo il fronte della gioventù cioè la crisi di identità di tanti, anche di centro Vedi Fitto e tanti altri a cui manca un luogo appunto dove fin anche discutere dove essere ascoltato cioè quella cinghia di trasmissione di partiti strutturati in ambito nazionale che è sempre stato il motore pulsante che serve a una nazione garantito fin anche dalla Costituzione quindi il motivo più banale è proprio questo Ed ora la sanità, ricorderete le proteste delle famiglie dei piccoli pazienti calabresi affetti da patologie gravi e rare che si curavano a Catanzaro grazie alla convenzione con il Bambin Gesù di Roma La stessa convenzione in seguito ad una cherelle innescata dal Movimento 5 Stelle fu messa a rischio però adesso si apprende che la convenzione sarà rinnovata anche se in termini diversi rispetto al passato Sentiamo Gabriella Passerello La collaborazione tra l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e l'azienda Pugliese Ciaccio di Catanzaro continuerà, sia pure in forme diverse rispetto a quelle in atto La convenzione attuale che sta per scadere e che in questi anni ha portato nel lab del capoluogo di regione schiere di pazienti da tutta la Calabria e non solo sarà prorogata per un mese poi subentrerà un protocollo più leggero che durerà circa 6 mesi e comporterà modalità di pagamento a prestazione da parte dell'azienda Pugliese Ciaccio al Bambin Gesù e il tenore dell'intesa raggiunta tra il presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ospedale romano, Mariella Enoch e il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, Massimo Scura A breve seguiranno i passaggi formali con il management del Bambin Gesù su una convenzione che prevede tra l'altro la formazione di medici locali anche se in zona Cesarini un primo risultato è stato ottenuto rimangono però tanti dubbi posti dal deputato Sebastiano Barmanti qualora le prestazioni dovessero essere numerose potrebbero cadere sotto la scura del budget limitato e ricreare una situazione emergenziale Voltiamo pagina un incontro pubblico su politica e legalità fatto da Cornice a Vibo Valencia alla consegna del primo premio Legalità e Democrazia Don Giacomo Panizza un evento che si è celebrato nel nome del senatore Antonino Murmura Va a Don Giacomo Panizza il coraggioso sacerdote bresciano che opera alla Messia Terme il primo premio nazionale Legalità e Democrazia promosso dall'associazione Pro Fondazione Antonino Murmura presieduta da Maria Murmura Folino moglie del grande uomo politico deceduto un anno fa il premio nella sala conferenza della Camera di Commercio di Vibo Valencia è stato consegnato a Don Panizza nel corso di un convegno su legalità e politica moderato dal direttore del sistema bibliotecario vibonese Gilberto Floriani a cui hanno preso parte anche il procuratore aggiunto di Cosenza Marisa Manzini la consulente della Commissione Parlamentare Antimafia Angela Napoli il consigliere di Stato Eugenio Mele e il direttore di LACI Pietro Comito un evento nel corso del quale si è ribadito il valore imprescindibile dell'etica nell'esercizio dell'attività politica tutto ciò sullo sfondo della figura di Antonino Murmura ricordato come tra le più alte espressioni della storia della politica calabrese ricordato come fine giurista appassionato parlamentare come statista ma soprattutto nella semplicità della sua dimensione umana E noi a margine dell'evento che si è celebrato a Vibo Valencia abbiamo intervistato Francesca e Maria figlia e moglie del compianto Antonino Murmura vediamo Questo è stato credo un crucio degli ultimi tempi di mio padre però lui ha sempre creduto che la politica fosse un'arte alla quale dedicarsi come una passione come una missione e per noi per me e per noi figli è un grande orgoglio anche sentire parlare in questi termini di questi temi sullo sfondo della sua immagine di quello che lui ha rappresentato per il territorio per il paese per la sua città per la sua famiglia e per la sua comunità Lui amava molto le persone semplici e direi che aveva una capacità di ascolto lui sapeva ascoltare cioè veramente chi veniva da lui anche se non poteva fare niente trovava diciamo una parola di incoraggiamento di conforto di possibilità ecco Lui ha vissuto proprio per il suo prossimo per il suo territorio per il suo paese Siamo in clima natalizio ma sotto le luminari acquistate a risparmio per il commercio si profilano festività all'insegna della crisi noi siamo stati tra le vie di Vibo Valencia Sulle vetrine già campeggiano le offerte promozionali con sconti che vanno dal 20 al 30% così i commercianti di Vibo Valencia tentano di incentivare le vendite su Corso Vittorio Emanuele III da qualche giorno si respira il clima natalizio complice la fiera dei prodotti artigianali denogastronomici che richiama in centro centinaia di visitatori tanta la gente a passeggio ma pochi pochissimi gli avventori nei negozi e allora ecco che scattano offerte e promozioni natalizie per convincere i clienti ad acquistare Siamo in panne qua basta guardarsi in giro potete notare voglio dire che non c'è non c'è gente c'è solo anziani questo è un paese che di anziani ormai Sempre colpa della crisi secondo lei? Ma diciamo che ormai il commercio si è spostato Dicono che c'è crisi la gente va a commerciare a comprare Rispetto all'anno scorso è calato un po' c'è la crisi c'è la crisi Speriamo in questi giorni Speriamo nella prossima settimana Speriamo bene E da qualche ora a rendere l'atmosfera più natalizia ci hanno pensato le luminarie che l'assessore alle attività produttive Nico Console si è affrettato a fare installare Un ritardo giustificato dalla necessità di risparmiare sulle luci quest'anno acquistate direttamente dal comune con una spesa che si aggira poco al di sopra dei 10.000 euro Bazecole rispetto ai 40.000 euro che venivano spesi gli scorsi anni solo per affittarle Il comune in collaborazione con lo Commercio quest'anno ha acquistato i luminari quindi si è stravolto nuovamente un segnale forte dell'amministrazione costa il vecchio modo di amministrare la cosa pubblica E' stato presentato con largo anticipo il presepe vivente che si svolgerà a Pentone piccolo e accogliente centro del Catanzarese si tratta uno degli eventi natalizi più attesi e suggestivi che si svolgeranno in Calabria Il piccolo borgo di Pentone si prepara ad ospitare la seconda edizione del presepe vivente che richiamerà nel centro alle porte di Catanzaro centinaia di visitatori L'appuntamento è per domenica 27 dicembre quando la cittadina sarà trasformata in una piccola betlemme Per l'occasione saranno riaperte antiche botteghe dove prenderanno vita i mestieri di un tempo ad organizzare l'evento che si svolgerà nel centro storico e il consorzio Calabria Giubileo 2000 in collaborazione con l'ente nazionale Sordi Calabria Alla conferenza stampa di presentazione del presepe vivente anche l'assessore regionale alle attività produttive Carmela Barbalace che si è soffermata sull'importanza dell'evento Questo credo che sia un momento di rilancio indispensabile oggi che stiamo vivendo una crisi strutturale oggi che è necessario riscoprire i valori del passato e qui dalle porte della Sila da un'area interna vanno riscoperti i valori intrinseci che queste stesse aree interne possono offrire al tutto il tessuto produttivo della regione Calabria Un appuntamento che farà riscoprire un paese ricco di storie e tradizioni così il sindaco Michele Merante Il presepe vivente rappresenta per noi questo primo grande evento è per noi una fonte di rivitalizzazione di un borgo che attualmente non è molto vissuto e che negli anni passati invece ha rappresentato la storia e la vita di molti dei nostri cittadini e di molte persone che hanno lavorato anche fuori per dare a questo paese la condizione che oggi vive E adesso lo sport il Crotone batte anche il come mantiene la vetta della classifica di Serie B i pitagorici non cadono nella trappola lombarda e con un gol di Budimir nel finale sbancano anche il Sinigaglia Continua senza sosta la marcia del Crotone nel campionato di Serie B dopo aver conquistato la vetta solitaria della classifica domenica scorsa i Rosso Blues bancano anche il campo del Como nel turno infrasettimanale grazie ad un gol a tre minuti dalla fine del solito Budimir un successo che vale oro colato sia per come è arrivato sia per il fatto che è stato colto proprio sul campo di quel Como che nell'ultimo turno aveva costretto al pareggio casalingo il Cagliari consegnando il primo posto in classifica alla formazione pitagorica e gli uomini di Juric non hanno mai mollato la presa nonostante fossero reduci da tre partite in sette giorni proprio questi elementi rendevano ostica la trasferta all'Ariana nonostante il Como sia ultimo in classifica e il campo ha confermato le difficoltà con i padroni di casa che hanno tenuto testa alla capolista fino alla fine quando al minuto 87 il Crotone trova il gol vittoria Martellas cambia contro Romino ed entra in area da sinistra tocco all'indietro per Budimir che di prima intenzione trova il diagonale vincente per la sua settima rete in campionato subito dopo e Cordaz a blindare la vittoria dicendo no a Gans arriva quindi la quarta vittoria di fila per il Crotone che ora nel match interno di domenica contro il Modena potrà consolidare la vetta e sperare di allungare vista anche la difficile trasferta del Cagliari sul campo del Livorno e subito dopo il triplice fischio finale in Sala Stampa si è presentato anche un soddisfatto Ivan Iuric per il tecnico Pitagorico quella contro il Como è una vittoria di forza al di là di che secondo me Come ha fatto una partita ottima specialmente fase difensiva dove ci ha chiuso le fasce ci lasciava libero il Clayton poi l'altro era tutto chiuso anche c'era un momento di secondo tempo dove avevano premuto molto con palle lunghe e calci angoli però alla fine penso che abbiamo subito veramente pochi tiri in porto Mister la prima vista particolarmente uforica alla fine sono queste le partite che danno la maggiore consapevolezza a prescindere dalla classifica cioè soffrire un po' e vincere specialmente considerando che era la quarta partita in 13 giorni ma io penso che magari 7-8 partite durante l'anno la fai alla grande dove vinci stravinci come noi abbiamo fatto contro Cesena contro Mario dove tutto va liscio fai un grande calcio vinci vai a casa poi tutto il resto sono partite combattute toste dove vince quello che ci crede di più corre di più è più concentrato sono tutti preparati il Como ha fatto le ultime due prestazioni veramente ottime contro Bari e Cagliari sapevamo tutti quello che ci aspettano non abbiamo sicuramente sottovalutato avversario considero questa vittoria veramente una grande vittoria di grande valore è veramente tutto il telegiornale torna alle 20 e 15 grazie per averci seguito buon pomeriggio fu ucciso per un tragico errore per il gesto balordo di uno dranghetista pluripregiudicato che è dirato per non aver ricevuto lo stipendio dal clan di appartenenza Irango Zingari in un periodo in cui era detenuto si affacciò dal balcone di casa e sparò due colpi di revolver calibro 38 contro colui il quale riteneva essere il responsabile giorno a metà mattinata nella casa dell'ex fidanzata la loro storia è finita da poco più di un mese ma lui Giuseppe Gambettola 26 anni di Gioia Tauro non ci sta non riesce ad accettare che la sua strada si sia divisa da quella dipendenti della provincia di Crotone si incatenano all'interno della sala consigliare quelli della provincia di Vibo Valencia occupano la strada antistante e gli uffici dell'ente senza stipendi da mesi senza presente dopo la bocciatura degli emendamenti in commissione bilancio a Montecitorio la situazione per i precari calabresi non sembrava mettersi bene scompariva di fatto la possibilità di ottenere un finanziamento poco meno di 90 milioni di euro che arrivasse interamente la azione nazionale il movimento politico che rilancia l'acronimo della vecchia alleanza nazionale mette radici in Calabria conferenza stampa a Feroleto Antico per il portavoce della neonata formazione Fausto Orsomarso che ha spiegato le ragioni del percorso intrapreso e a cui aderiscono tra gli altri Gianni Alemano e Giuseppe Scopellini c'è un vuoto politico c'è uno spazio politico c'è uno Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia Dal lunedì 26 ottobre l'edizione pomeriggio della C News 24 va in onda alle 16 e 30 I calabresi sono informati Alla prossima Grazie a tutti.